Ehi ragazzi, bentornati sempre sul canale FedeCompany Siamo di nuovo su Lords of the Fallen Benissimo Prima che credessi il video, questo qui Che praticamente adesso è morto E' detto di andare praticamente dentro il cimitero Che è nelle catacombe Porca troia C'è il carissimo Antanas Grazie Bella lì Oh, palle Scusate Non aspettavo che ci fosse sto ciccione Oh, 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 vabbè, basta Curiamoci Paggioro tutti i marroni Oh, e mori Intanto c'è C'è Remus, ma neanche mi scrive Sotto i commenti di NBA Comunque, sotto i video di NBA Vabbè Se sentite vibrare ragazzi il telefono Ovviamente Adesso C'è quello lì, praticamente il boss È il primo boss, praticamente Dai Paradio, buono Facciamo nulla, proprio Ecco la stoccata, madonna ragazzi Perfetto Magnifico Magnifico Oh, illa Gli hanno spaccato un po' di armatura Quindi siamo messi abbastanza bene No No Ok Ok Ehi là Noi facciamo nulla Oh Morto ragazzi Morto Mi lascio qualcosa Mi lascio nulla Però su Spadone Mi piacerebbe prenderlo Non posso Perfetto Ora il catacomb Dovrebbe essere qua Secondo quello che ha detto Quell'altro Qui no Qui Ok Perfetto Qui Bella a tutti Ovviamente i caricamenti li taglio Come sempre Ok Perfetto Sarebbero queste Le catacombe Belle Ok Ok Catroia Doi 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 Donna Ragazzi Minchia è morto Ragazzi È già morto È già morto Ragazzi Un colpo Una stoccata Madonna Siamo fortissimi La magia è veramente forte Ragazzi La magia è veramente forte Per cui Apriamo qua Va Apriamo con la ru Cosa che Non so cosa sia Vediamo Scrigno Ragazzi Scrigno La mia Ascia Vediamo com'è La mia Ascia Non la posso usare Sicuro Perché Sei già sotto Quindi Protettore No Va bene La mia Ascia C'è 22 A forza Non la posso usare Quindi Continuiamo Con il nostro Con la nostra Quamart Qui cosa c'è Un bibio Io vado dritto Ok Ecco la stoccata Prendilo però Prendilo Bella ragazzi Bello C'è del fuoco Cosa che non mi piace Molto come cosa Infatti C'era il lezzino Qua c'è un altro Coso No Andiamo qua sotto Ok Tu muori Allora questo Che ha tirato il fuoco Ragazzi Qua dove siamo Muovi sepolcri Ah dove eravamo Primo Ok Perfetto Io voglio esplorare Questa zona Pozzo della morte Invitante Chi non andrebbe A fare una vacanza Aquila ragazzi Una donna Il pozzo della morte Fiera Dove sto andando Occhio delle C'è il cello Oh Ragazzi Ma dove vai Dove devi andare Oh Catroia Non l'ha preso Non l'ha preso Catroia Non l'ha preso Però neanche lui Non mi ha preso Neanche lui Dai 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 Vieni qua Vieni qua Vieni qua Donna Ragazzi L'ho preso Vai prenditi Prenditi questa No donna Ragazzi Devi morire Ok Morto In qua Avevo visto qualcosa Infatti c'è qualcosa No ma a me sti bibi non piacciono Mi spiace ma Devo tornare Tornare qui Queste sono delle celle Perfetto C'è un checkpoint Ragazzi C'è un checkpoint Io vi potrei dire Che proviamo a livellare Se riusciamo No C'è un ciccione Guardalo che bastardo Che sicura L'ho beso Mori Madonna Ok Proviamo a vedere Se riusciamo a livellare Vediamo un po' Si un livello riusciamo Però Volevo anche andare avanti Un pochettino di qua Bene Un livello Magari lo facciamo E poi chiudiamo il video Ragazzi Perché non voglio farli Troppo lunghi Come al solito Quindi facciamo Magari Stoccata livello Già 3 Quindi Quindi si Facciamo Magari Magari vitalità Non lo so Vabbè Vabbè Facciamo resistenza Dai Consiglio di fare resistenza Bella a tutti ragazzi Ci becchiamo Al prossimo video Condividete Commentate Iscrivetevi Come sempre Questo solo su Fede Company Live Commentary Quindi ragazzi Ciao a tutti E al prossimo video